Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Trapani, Samuele Corso, accogliendo le eccezioni difrensive, ha annullato la richiesta di rinvio a giudizio restituendo gli atti del processo denominato Artemisia II alla Procura della Repubblica. Il gruppo ha rilevato, come sostenuto dai difensori degli imputati, la violazione del diritto di difesa poiché la Procura non ha consentito agli avvocati per problemi tecnici di visionare filmati. I sostituti Francesco Urbani e Sara Morri chiedono il via all'indagine Artemisia Bis che riguarda soltanto l'ipotesi di reato per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico, prendendo spunto dalle intercettazioni ambientali effettuate all'interno della sede Ips di Trapani disposte in relazione al troncone principale Artemisia che prevedeva per gli indagati reati di corruzione, concussione, traffico di influenze, peculato, truffa aggravata, falsità materiale ideologica, favoreggiamento personale, rivelazione del segreto d'ufficio ed associazione a delinquere segreta finalizzata ad intervenire con la pubblica amministrazione in violazione della cosiddetta legge Anselmi. Tra gli indagati nel primo troncone di indagini anche l'ex deputato regionale Giovanni Losciuto che assieme ad altri indagati fu accusato dagli investigatori di aver fatto erogare senza necessari requisiti ben 162 pensioni di invalidità. Nell'indagine BIS invece vennero coinvolti tutti i componenti delle commissioni mediche 28 imputati, quindi sia i medici Ips che i medici convenzionati esterni, così come quelli di categoria e gli operatori sociali. L'indagine dei PM avrebbe individuato il presunto reato di falso ideologico commesso nei verbali delle commissioni mediche per l'accertamento dell'handicap e per la concessione della nota legge 104. Adesso la palla torna alla procura che dovrà mettere a disposizione degli indagati e dei loro difensori tutti gli atti di indagine compiuti.